E se ti dicessi che questa azienda dal 1985 ad oggi ha donato a chi vi ha investito ovviamente un rendimento anno medio del 13%, al di sopra dello storico dell'S&P 500, che non è una big tech, che ha un dividendo sopra il 3%, che ha battuto per 24 volte di fila le previsioni degli analisti sulle ultime trimestrali e che pur essendo di poco in positivo da inizio anno, è sottovalutata. Andiamo a vedere bene di chi si tratta e andiamo ad approfondire l'ultima trimestrale uscita martedì 10 ottobre. Cominciamo. Benvenuti o bentornati, io sono Pasquale. Questo video non era in programma inizialmente, ma trovandomi nella situazione di avere risultati estremamente positivi su una delle prescelte, cioè sulle aziende che sono nel mio portafoglio o nella mia watchlist, ho pensato di approfondire questa trimestrale. Se resti fino alla fine, ti dico anche di quale azienda parliamo, anche perché se no, che ci sei venuto a fare qua, no? Parliamo di numeri eccezionali, considerando che dal 1993, data in cui la denominazione della sua quotazione è cambiata, ha reso un CAG del 22,5% di circa. Eppure l'azienda sta ai minimi delle ultime 52 settimane. Ma com'è andata l'ultima trimestrale e come sono i rendimenti in termini di fatturato, debito e profitto storici, nonché ovviamente dei dividendi? Partiamo col dire che si tratta di una consumer defensive, per cui un'azienda che sostanzialmente vende bene di prima necessità o che vengono percepiti come tali, e per cui ha l'enorme vantaggio di poter andare ad adeguare i prezzi alla situazione infrazionistica. A dire la verità, alcune metriche sono in calo, ma è un'azienda molto matura, come una mela. Vediamo i dati dell'ultima trimestrale. Adjusted Earning Per Shell, 2 dollari e 25 contro i 2.15 previsti. I ricavi sono 23.45 miliardi di dollari contro i 23.39 previsti. Per il 2023 l'azienda prevede ora una crescita dell'utile per azione a valuta costante del 13% rispetto alla precedente previsione che era del 12%. È il terzo trimestre consecutivo che questa azienda ha alzato le previsioni per l'intero anno. Per quanto riguarda invece l'utile netto del terzo trimestre attribuibile all'azienda di 3.09 miliardi o di 2.24 dollari per azione rispetto ai 2.7 miliardi o 1.95 dollari per azione dell'anno precedente. Escludendo gli elementi straordinari, l'azienda ha quindi guadagnato 2.25 dollari per azione. Le vendite nette sono aumentate del 6.7% a 23.45 miliardi di dollari. Il fatturato organico dell'azienda, che esclude acquisizione e dismissioni, è salito dell'8.8% in questo trimestre. Anche se è da considerare che gli aumenti del prezzo fatti per mitigare l'inflazione hanno indebolito la domanda dei propri prodotti. Infatti l'azienda ha ridotto le porzioni e creato parchetti di minor valore per incentivare più transazioni e questa tipologia di strategia, pur offrendo delle opzioni più economiche per i compratori, per i consumatori, impatta anche sul quello che è il volume di venduto, che è inferiore. L'unità di bevande che sta in Nord America ha riportato una diminuzione del volume del 6%. Il CEO, Raymond Laguarta, ha affermato che l'azienda ha eliminato alcune promozioni, come nel caso del suo business delle acque imbottigliate, per preservare i margini. Ormai vi ho detto il nome del CEO, dovreste aver capito di chi si tratta. Guardando al 2024, l'azienda prevede una crescita organica dei ricavi nella parte alta del 4% fino al 6% e una crescita del guadagno per azione a valuta costante nel segmento alto dei singoli numeri. Ora che abbiamo snocciolato i punti cardine della trimestrale, di che parliamo? Prima di dirvelo vi dico anche che a breve andremo a analizzare alcuni dati di lungo termine, come rendimenti, drawdown, CAG annualizzato, fatturato, profitto, dividendo e così via. Stiamo parlando di PepsiCo e ora andiamo al PC. Prima di passare ai dati ventennali dell'azienda, volevo andare a guardare un attimino un paio di dati che ho prelevato facendo il backtesting con Portfolio Visualizer, che vi ricordo utilizzo più o meno spesso per fare le analisi di comparazione e backtesting con le varie asset classe. In questo caso abbiamo con la linea blu, come possiamo vedere, PepsiCo, mentre con la linea rossa l'SMP500 e come possiamo vedere il CAGR è molto elevato, quello di Pepsi ovviamente, rispetto a quello dell'SMP500. Ma passiamo a vedere altre cose molto interessanti. In questo grafico abbiamo l'annual return, in pratica quello che sono stati i rendimenti su base annua della Pepsi rispetto all'SMP500 e come possiamo vedere nella maggior parte dei casi la Pepsi ha avuto degli anni fantastici a meno di quasi pareggio o comunque dei rendimenti maggiori rispetto all'SMP500, soprattutto negli anni che vanno dal 2009 in poi, mentre precedentemente, a parte un caso sporadico, la Pepsi aveva notevolmente sovraperformato l'SMP500. Il dato però che salta molto all'occhio, lo vediamo qui negli anni return, ma lo vediamo nell'altra immagine che vi faccio vedere a breve, è per quanto riguarda i drawdown. Infatti a parità di ritorni, anzi leggermente maggiori quelli di Pepsi, come possiamo vedere da questo grafico, la maggior parte delle volte i drawdown maggiori li ha avuti l'SMP500 rispetto alla singola azienda, la PepsiCo in questo caso. Questo molto probabilmente perché se non la consumer staples ha quella ottica di difensivismo nei confronti dell'investitore e soprattutto chi va ad acquistare, va ad acquistare beni che percepisce come beni di prima necessità. Vi ricordo che a differenza di Coca-Cola, PepsiCo non produce solo bevande, ma produce anche degli alimenti. Infatti in questo altro grafico possiamo andare a vedere come nei vari periodi di stress intenso, quindi delle crisi quelle pesanti, a parte un unico caso che è quello del default del debito della Russia, dove molto probabilmente PepsiCo aveva grandi affari, nella restante parte dei casi PepsiCo ha avuto dei drawdown minori rispetto a quello che è l'SMP500, posizionandolo appunto a quello che è un settore difensivo. Giusto in termini di curiosità, da quando è stata quotata sul mercato ha reso quasi un 675%, attualmente ha uno yield che è poco sopra il 3%, ha un 14%, ha un PA intorno al 21,5%, un EPS forward del 7,48% e in questo momento ha uno short interest di 0,93%, market cap di 222 miliardi circa di dollari e andiamo a vedere adesso i dati su base ventennale e ora andiamo a vedere i dati su base ventennale. Ma prima andiamo a vedere come si va a conformare il suo rendimento, le sue problematiche rispetto ai cosiddetti peers, i competitors. Adesso andiamo a vedere quelli che sono i peers, cioè i competitors dell'azienda. In realtà sì che in alfa me ne offriva diversi, ma era come mischiare le patate con le pere, perché mi offriva anche delle aziende, il settore brasiliano, Asia Pacifico, molto settorializzate. Invece ho voluto ristringere la mia analisi da PepsiCo, The Coca Cola Company e Dr. Pepper. In termini di rendimenti, come si può vedere, PepsiCo sul lungo periodo è quella che ha reso di più in binomio con la Dr. Pepper, che ha avuto un boom, diciamo, a partire da quello che è il 2020, però poi ritornare nei suoi ranghi, e dove PepsiCo, a parte il periodo degli anni 90, ha sempre sovraperformato di parecchio The Coca Cola Company. Inoltre ha un dividendo molto più ampio. In termini di fatturato vediamo anche che PepsiCo ha un fatturato maggiore, molto più grande sia di Coca Cola che quello che è di Dr. Pepper. Anzi, le due aziende insieme, le due competitors, non vanno assolutamente a inferire neanche di poco quello che è il fatturato di PepsiCo, ma ovviamente il fatturato non dice tutto, perché bisogna anche avere dei margini per guadagnare, andiamo a vedere i margini. Ed effettivamente se andiamo a vedere il net income, tralasciando Dr. Pepper che vediamo un po' staccata dalle ultime due, Coca Cola e PepsiCo in base al periodo storico si vanno un po' a dividere questo fattore del net income, del guadagno netto, quindi tolto tutte le tasse, tutto quello che devono togliere. E solo recentemente PepsiCo è stata risuperata la Coca Cola e in particolare parliamo di circa il 2021, mentre fino al 2019, poco prima della pandemia tra l'altro, il net income di PepsiCo era sicuramente maggiore di quello di Coca Cola, che però aveva dominato negli anni 2000, comunque nei primi 10 anni, 15 anni. Il discorso è leggermente diverso se si fa a guardare il margine lordo di profitto, in quanto Coca Cola è sempre stata in predominanza rispetto alle altre due, con un profitto di margine lordo che è praticamente quasi speculare con quello di Coca Cola, semplicemente Coca Cola l'ha sempre avuto maggiore sul 60%, mentre di PepsiCo sta intorno al 55% circa. Possiamo vedere anche da qui 58% e mezzo Coca Cola e 54% PepsiCo, è una differenza veramente minima. Ma guardando il rendimento che ha dato sul lungo periodo, sia per quanto riguarda il capital gain che per quanto riguarda i dividendi, molto probabilmente PepsiCo, e tra l'altro è la mia preferita, comunque non è un segreto per chi mi segue sul canale, è quella che secondo me può dare delle soddisfazioni maggiori. Per quanto riguarda gli asse totali, partiamo di due aziende che praticamente sono speculari, diciamo che Coca Cola fino al 2020 è stata quella che ha un po' dominato, poi diciamo che si sono equiparate fino adesso. In termini di debito, anche qui possiamo dire che le aziende si diversificano di poco, con un 35 miliardi e 8 per quanto riguarda PepsiCo e 37 miliardi, quasi 2 per Coca Cola, più che altro bisognerebbe vedere quanto di questo è coperto con vari asset. Per quanto riguarda i prestiti a breve periodo, Coca Cola ha recentemente, diciamo intorno alla crisi pandemica, ridotto drasticamente i prestiti a breve termine, mentre PepsiCo l'ha superata proprio di recente, però si sta parlando comunque di qualcosa ampiamente gestibile e infatti riguardo a questo andiamo a vedere un po' quello che è il cash. Per quanto riguarda il cash flow non alleva, abbiamo Coca Cola con 10 miliardi, mentre PepsiCo 6 miliardi e mezzo. Per quanto riguarda invece quello alleva, possiamo vedere che Coca Cola ha 9 miliardi e 3, mentre PepsiCo 6 miliardi e 3. E questo se lo riportiamo come free cash flow per share, possiamo vedere che al momento abbiamo 2,19 per quanto riguarda la Coca Cola e 5.05 per quanto riguarda PepsiCo. Vi ricordo che poi voi potete trovare nel mio Patreon, Patreon o Patreon, come comunque voi lo vogliate pronunciare, anche un file Excel storico degli ultimi vent'anni di tutte queste metriche che ovviamente per chi si iscrive può guardare e scaricare gratuitamente e troverete anche tutti gli altri post con gli altri file da scaricare per le altre analisi che ho fatto, fra i quali Caterpillar, una delle altre prescelte. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di PepsiCo. Ti ricordo che se vuoi avere un'anteprima delle aziende che aggiungono al mio watchlist puoi sempre iscriverti al mio Patreon. Lo puoi fare a costo di una colazione al mese dove possiamo anche approfondire in privato le aziende menzionate dove potrai trovare il file o i file che propongo o presento durante i miei video. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o a non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a far parte di questa famiglia e di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Bene io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto! A presto!